Vittoria netta del centro-sinistra a Bellizzi con Mimmo Volpe, sostenuto da una civica che torna al comune di uno dei centri più importanti della Piana del Sele. Poco meno di mille voti il vantaggio sul sindaco sciente Pino Salvioli, 52,08 il risultato ottenuto grazie a 4.598 voti. 43,41% invece per Salvioli del centro-destra, anche egli sostenuto da una lista civica con 3.833 voti. 3. Antonio Granato del Movimento 5 Stelle con 4,49%. Idee chiare per il neosindaco che ha già annunciato di voler rivedere la presenza dell'amministrazione nella compagine dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi alla luce dell'attuale situazione vissuta dallo scalo. Il primo obiettivo è quello di pacificare la comunità di Bellizzi, basti pensare che io oggi sono stato lontano dai seggi lasciando tutti i miei collaboratori, andando fuori proprio per evitare il clima pesante che c'è stato in questi giorni. Poi il risultato è inconfutabile, la città ha votato in stragrande maggioranza, non è che siamo arrivati alle 16 schede contestate. La città ha premiato quella che era la storia della comunità di Bellizzi, la progettualità. Ora bisogna riprendere questo cammino di positività. Quanto è importante adesso nel suo mandato lo sviluppo di fatto concreto, definitivo dell'aeroporto? Lei sa che io per dieci anni sono stato vicepresidente di quell'aeroporto, ho un merito di averlo aperto insieme alla presidenza di Augusto Strianese in tempi non sospetti. Noi nel 2009, nei verbali che lei potrà leggere e tutti potranno leggere, c'è che noi nel 2009 la politica doveva uscire fuori da questo circuito aeroportuale, perché bisognava affidarla a tecnici, a società, a chi è capace di fare un nuovo. Per me è la priorità, perché quindi ritorno a un crucio dell'aeroporto, perché l'aeroporto è al servizio di un pezzo del mezzogiorno, non solo della provincia di Salerno. L'obiettivo è prioritario. Io uscirò fuori dalla società, non sono disposto a pagare più contributi all'interno di una società che non produce niente. La cosa invece, farò di tutto, perché dato che un pezzo del sedime aeroportuale ricade nel comune di Bellizzi, come tale, come socio azionista, che da 15 anni siamo lì e l'abbiamo aperto, abbiamo fatto di tutto affinché si desse, perché lei si ricorderà, il primo start-up diete 34 mila passeggeri. Non fu una sciocchezza. Si risultato incerto invece a Sala Consilina, dove tutti i candidati hanno ottenuto percentuali a doppia cifra. Il sindaco eletto comunque è Francesco Cavallone di Sala Viva con il 27,11%, 2.186 voti. Dietro di lui con 1.752 voti è Antonio Santarsiere con il 21,73%. 17,81% invece per Giuseppe Colucci, 12,21% per Michele Galiano, 10,81% per Luigi Cardano e 10,29% per Antonio Gallo del Movimento 5 Stelle.